Una supplica scritta personalmente e rivolta al crocifisso di Como per chiedere sostegno e conforto in questo tempo di difficoltà. Il Vescovo Monsignor Oscar Cantoni ha presieduto oggi, nel primo venerdì di Quaresima, la Via Crucis, nella Basilica del Santissimo Crocifisso, dove è stata esposta la croce miracolosa, alla quale ha rivolto una preghiera che sia di aiuto, di speranza e di forza per tutti. Da secoli accompagna e sostiene il cammino di fede dei fratelli e sorelle di questa città e di tutta la nostra Chiesa, anche e soprattutto nei momenti di dolore e di prova, ha detto. Il riferimento è all'emergenza sanitaria. Conosci la nostra debolezza e continua ad esserci vicino in questi momenti di trepidazione per la presenza devastante del coronavirus, che ha sorpreso e sconvolto le nostre vite, le nostre abitudini, le nostre attività quotidiane, ha aggiunto il Vescovo, che ha chiesto sostegno per quanti sono impegnati nell'affrontare questo periodo di emergenza e si prodigano generosamente al servizio dei malati e delle loro famiglie. Dona conforto ai sofferenti, soprattutto alle persone più esposte, agli anziani, le persone sole e quanti sono infettati dal virus, continua Cantoni nella sua preghiera. Sia vincente la generosità di coloro che sacrificano il loro tempo e le loro energie per sostenere quanti hanno bisogno di cure. Fa che ciascuno di noi impari la lezione che deriva da questo momento di smarrimento e di prova. Oggi ci scopriamo feriti, fragili e deboli, incapaci di trovare salvezza in noi stessi o nelle sole risorse della scienza e della tecnica. Aiutaci a tornare a te con fiducia. Ha concluso. Domenica, prima di quaresima, la messa in diretta sui tv delle ore 10 sarà trasmessa ancora dalla chiesa di San Cassiano a Breccia e sarà presieduta come le prossime dal Vescovo.